Salve con cittadini ed amici di Cagliari, sono Antonello Renato Obinu e da oltre un ventennio svolgo la professione di avvocato nella nostra amata città. Il 5 giugno non disperdere il tuo voto e ricorda che solo cambiando le persone puoi cambiare la città. Scegli l'onestà e la competenza. Avvocato Antonello Renato Obinu. Cambiare la città per non dover cambiare città.